La Giunta del Comune di Lisio ha approvato l'attribuzione della DECO alla Castagna di Lisio. Inizia così ufficialmente la valorizzazione di uno dei prodotti più caratteristici di questo territorio, non solo comunale ma di tutta la Val Mongia, della grande tradizione e qualità. Una storica specialità tutta da riscoprire. Oggi finalmente parte il progetto DECO della Castagna di Lisio. Come amministratore comunale, come sindaco, sono orgoglioso di portare a termine questo progetto iniziato anni fa e ufficialmente parte, come appunto detto oggi, un progetto che tende a valorizzare il prodotto principe del Comune di Lisio e dell'intera Val Mongia, cioè la Castagna. Tende a valorizzare il territorio perché dietro a questo prodotto esiste un territorio che va riqualificato, che è soggetto a una manutenzione che possa portare gli agricoltori di oggi a utilizzare al meglio le loro attrezzature per poter produrre questo prodotto, in modo tale che anche ai fini turistici possa portare un incremento nelle nostre vallate, nel nostro piccolo paese e che possa anche portare un aumento della popolazione attratta dalla produzione di questo prodotto. Per Lisio il Castagneto è sempre stata un'economia fin dai tempi passati, ha permesso alle vecchie generazioni di potersi sostentare con questa risorsa e lo scopo dell'amministrazione comunale di Lisio è quello di valorizzare al meglio questo prodotto, la castagna, che in termini qualitativi, in termini nutrizionali, è un prodotto molto particolare. Sono molto felice che oggi inizi ufficialmente questa grande fase del progetto, che è quella più concreta, quella più dimessa a terra. L'amministrazione tutta crede seriamente nella castagna di Lisio, è stato creato un deco apposto appunto per valorizzare più il prodotto locale, per valorizzare soprattutto quello che abbiamo attorno. Da tempo ho pensato che il lavoro vero da consulente aziendale fosse in azienda, quindi in città mediamente, ovvero dove c'è il maggiore concentrato umano e aziendale. Oggi penso che la vera fabbrica sia questa, la fabbrica del bosco, ovvero un'attività che è quella dell'agricoltura legata alla castagna, che da generazioni non solo ha dato da mangiare ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, ma che ci hanno lasciato in qualche modo in eredità e che io sento e sentiamo tutti come comune in questo progetto molto sulla nostra pelle, perché è qualcosa che rappresenta anche la nostra storia. Dalla primavera si inizia con le prime visite, si va verso l'estate con le pulizie, insomma con tutti i lavori che ci sono, si arriva appena in autunno con la raccolta ed evidentemente in inverno con la produzione, con il lavorato del prodotto. E più che mai oggi sono convinto che non è necessario fare dei chilometri per andare a prendersi il lavoro, ma che forse in casa abbiamo già qualcosa che è vendibile, che è valorizzabile e che soprattutto è a chilometro zero, è genuino, è un prodotto che vende per definizione. La castagna ed eco di Lisio nasce su grandi principi che sono quelli della resilienza, specialmente un comune montano più che mai oggi deve lottare contro lo spopolamento e soprattutto deve dare un'alternativa ai giovani e anche ai meno giovani che in casa c'è qualcosa che si può fare, c'è qualcosa da valorizzare, c'è qualcosa che si può produrre. I castagnetti per noi, per la nostra vallata, in particolare per la Val Mongia, ma anche per quelle limitrofe, sono indubbiamente un reddito non indifferente. E' uno dei pochi redditi che in queste zone si possono portare avanti. È comunque una forma di sacrificio non indifferente perché il loro mantenimento comporta un assiduo e continuativo lavoro che tra l'altro è anche molto faticoso. Diciamo che anche per i giovani il fatto di poter continuare un castagneto ancora in buone condizioni è una cosa che ti spinge a farlo. In realtà i castagnetti che poi si trascurano per motivi diversi diventa molto più difficile. E così è così importante avere anche le strade di comunicazione e di accesso che siano comode, come noi abbiamo la fortuna di averle, perché comunque ti permettono di arrivare sul tuo fondo con mezzi particolari senza avere l'obbligo di avere il fuoristrada o il piccolo trattore o altri mezzi per poterli raggiungere. Il fatto di essere comodo ti permette anche di poter occupare poche ore al giorno che ti ritieni di avere libere e di fare piccoli lavoretti e di seguirlo con una certa costanza. Come amministratore e come sindaco sono orgoglioso di poter ringraziare Coldiretti che ci ha seguito fin dall'inizio di questo progetto. Ringrazio anche a nome del Comune il consigliere Marco Lombardi perché è stato il referente fin dal progetto embrionale di questa idea fino ad oggi che parte ufficialmente e speriamo che questo progetto possa realmente valorizzare il prodotto castagna, il castagneto di lisio e tutta la Valle Mongia.